Immersa nel verde delle campagne veronesi, con i loro vigneti, dolci colline, fiumi e ruscelli, l'elegante Corte Pedrotta, con le raffinate sale interne, farà da cornice ai diversi momenti della vostra festa di nozze, regalandovi suggestive atmosfere e momenti romantici. Lo spazioso e curatissimo giardino, che si estende per circa 1500 metri quadri, circonda la villa e vi offre splendidi scenari per il vostro ricevimento durante la bella stagione. All'interno della storica struttura, invece, la raffinatezza delle sale arredate con ricercatezza vi permetterà di organizzare un banchetto regale all'insegna del buon gusto. La Corte dispone di due ampie sale, di cui una in grado di accogliere circa 140 persone, adibita a salone ricevimenti, arricchito da dettagli decorativi d'epoca come specchi, quadri, lampadari, soffitti con travi in legno a vista e camini. Perfetta per accogliere eventi di classe, la location è gestita da professionisti del settore eventi che sapranno suggerirvi le migliori soluzioni per le vostre nozze e proporvi eccellenti fornitori per catering, fiori, servizio fotografico e tutto quello di cui avrete bisogno per realizzare il vostro sogno più bello.